Patto per la Puglia, la Capitanata attende l'abbio dei progetti relativi alle grandi opere. Nei giorni scorsi i sindacati e Confindustria Foggia hanno denunciato i ritardi. L'assessore regionale Raffaele Piemontese risponde che occorre tempo e lungimiranza. Ma il Patto per la Puglia ha delle tempistiche. Il punto è questo, chi ha lavorato e ragionato in passato guardando solo a ciò che si può fare domattina e pensando che gli aspetti che hanno a che fare con la programmazione, quindi grandi opere che si realizzano non fra sei mesi ma che hanno tempi di attuazione più lunghi, siccome non ti portano il consenso immediato il giorno dopo, non mi interessano perché è più importante fare il favore di aggiustare il marciapiede a una persona piuttosto che far arrivare qui 40 milioni di euro per fare una piattaforma logistica che la vedi fra un anno o due anni, ha poi portato a dei ritardi di sviluppo di questo territorio. Io credo che invece noi dobbiamo mettere in campo una politica che sia un po' più lungimirante e che guarda al treno tram, che guarda alla piattaforma logistica, che guarda a grandi infrastrutture, che è in grado di ragionare sul rifacimento complessivo di 30-40 milioni di euro di strade nei Monti Dauni, che guarda finanziamenti sulla cultura, sul Gargano, che ragiona delle aree interne, che fa questi ragionamenti e non solo guardare a ciò che ha un impatto piccolissimo domani. Dobbiamo tenere assieme le due cose. E poi annuncia lo sblocco di 40 milioni per la piattaforma logistica di Borgo Incoronata. Su Foggia Città noi adesso saremo nelle condizioni di sbloccare le risorse di 40 milioni di euro per la piattaforma logistica integrata di Borgo Incoronata, quindi renderemo Foggia e quell'area industriale un polo logistico ancora più forte in grado di trasportare le merci dal sud verso i mercati dell'Europa del nord.